Irene? Guardi chi è venuto a trovarla. Chi è lei? Mia nipote. La mia nipote adorata. Chi? Chiami la polizia se vuole. Noi non abbiamo il suo portafoglio. Non fare finta di niente. Voi due siete dei ladri, vero? Io l'ho visto. Chi hai visto? L'ho visto, ho visto Axel che baciava il mano. Possiamo parlare un secondo, Olly? Sì, sì, certo. Tu sei sicura che quello che mi hai detto è vero? Brisa, continua, continua. Che c'è, morendina? Irene è tornata nel mio appartamento. Prima non dobbiamo negoziare. Se vuoi avere il mio computer, tu mi devi aiutare a fare una cosa. Mi potresti spiegare come mai sei andata in ospedale e non mi hai detto che hanno operato tua nonna? Come l'hanno operata? Voglio parlare con il produttore e dirgli com'è divina. E lui non avrà alcun dubbio sul fatto che la cosa migliore sia non lavorare con lui. Mi sembra una buona idea. Allora, Irene, chi ha detto, nipotina adorata? Ah, insomma, credo di sapere chi può averlo detto. Tieni, ho una bellissima notizia da darti. Tra poco, Lolly Rock.